Quella là in fondo ragazzi è una ruota che gira e sceglierà un colore di porte che dovremmo affrontare qua davanti ragazzi Ogni porta nasconde uno youtuber della Big Vanilla Questo cosa comporta? Che se quello youtuber riuscirà ad eliminarmi all'interno di questa sfida Vincerà un premio che deciderete voi qua sotto nei commenti alla fine del video Quindi mi raccomando siete anche belli che cattivi ragazzi Quindi benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio di Minecraft Allora come vedete quindi qua davanti abbiamo una bellissima ruota Che deciderà chi dovrà sfidare per ogni colore abbiamo tantissime sfide ragazzi E ogni youtuber ha un drop a sé Ogni youtuber farà una sua sfida mi sfiderà mi darà i suoi effetti qualcosa di strano Per esempio il primo colore che esce fuori è il viola Vediamo chi nasconde la porta viola Bella faccia con un uovo in mano Ragazzi è molto Aia Allora come notate io ho pochissime risorse Ho solamente 10 bistecche e 3 mele d'oro E bella faccia con questo uomo mi ha tolto 2 cuori per un pugno Aia No mi ha tolto 4 cuori Ma è fortissimo Bella face vieni qua Aia no 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 ragazzi La vedo tosta sta battaglia di bella face Chiudiamo la porta Perché se ogni youtuber è così bello che ostico Ehm Signor bella faccia Vieni qua Oh cacchio 3 cuori ragazzi È tostissima sta battaglia Quindi per esempio se io adesso fossi stato ucciso da bella faccia Io avrei dovuto fare un regalo a lui nella big mani L'avete capito il senso ragazzi Quindi è bello bello che tosta la sfida E poi qua a fianco possiamo vedere anche quali sono le persone che abbiamo saltato Per esempio qua avevamo Roby Da questo lato avevamo Fero Ok interessante interessante ragazzi come sfida Mi piace Allora intanto qua chiudiamo il buco Vediamo qual è il prossimo colore Che deciderà la nostra ruota Il prossimo youtuber da sfidare Mi dice colore verde Ah Fermi un attimo Ma Ma mi ha droppato una pistola bella faccia Ma non l'avevo vista Bella la pistola Bella Colore verde Vediamo chi nasconde il colore verde No loco Biggret Salve Non mi faccio il male ragazzi Ma io avevo metà vita Allora ricarichiamo la vita Biggret No 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 biggret Si calmi Biggret Oh cacchio ho fatto fuori il biggret Con un colpo di pistola Ma non mi aspettavo di togliere così tanto la pistola ragazzi Allora Va bene Non mi faccio domande ragazzi Mi scusi signor biggret Ma ho dovuto farlo Allora droppiamo questi blocchi Vediamo cos'è il prossimo colore Se esce un altro verde impazzisco eh Ma io neanche l'avessi detto Allora Escono sempre gli stessi colori praticamente Allora vediamo cosa esce adesso Ok Giallo Secondo me è più giallo che arancione Dai giallo giallo Vediamo qual è il prossimo colore giallo Ricarichiamo un po' la fame Però ragazzi Questa sfida qua è bella che tosta Ancora bella faccia No perché col piccone Due cuore e mezzo ragazzi Mangiamoci una mela d'oro Ma mi pare normale bella faccia che sia così forte Allora signor bella faccia Signor bella faccia Inca 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 Urca Un'altra pistola Ottimo Ottimo Però secondo me le pistole sono un po' rotte ragazzi Quindi per ora teniamone solamente una E mangiamo Ma sto già finendo la carne ragazzi Oh cacchio Mi sono spoilerato una porta senza guardare dentro Ma mancano tantissime corse E ho già quasi finito la carne Ok Bella che tosta come sfida ragazzi Mi piace Allora prossimo colore della ruota Ok Secondo me esce il rosso Vediamo Rosso No quasi però ragazzi Viola Signor Viola Chi si nasconde qua dietro Entro subito di cattiveria così No Marci Ma guarda te Con una spadata di diamante mi ha tolto un sacco di vita No ragazzi non riesco a colpirlo No 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 ragazzi Ve lo giuro Non riesco a colpire Marci È troppo veloce Sembra molto più veloce del solito con la spada Marci Vieni Ma in colpo Così No 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 Allora ho provato a fare una combo Tra pistola Ok Uuuuh Dicevo Mi ha droppato Oh Una ciaspita in diamante Allora Per ora mettiamola qua nell'inventario Secondo me Utilizzare l'armatura È troppo facile Secondo me le armature sono veramente troppo semplici da utilizzare Quindi per ora Lasciamole qua dentro E freghiamocene Perché voglio che sia una sfida bella che tosta Voglio che sia una sfida interessante Quindi proviamo ad andare avanti Vediamo qual è il prossimo colore Per questa sfida di The Mark Vediamo 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 Allora verde Verde ancora o blu Facciamo blu Che il verde l'abbiamo già scelto ragazzi Signor blu buonasera Ancora bella faccia Vieni qua ti prendo a pugni Bella faccia No 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 È rimasto incassato nella porta Un cuore No Bella faccia Vabbè Allora dovete decidere cosa devo regalare a bella faccia All'interno della Big Vanilla Però va bene così dai Purtroppo però sono andato anche avanti a pugni ragazzi Che avevo una pistola Voglio dirti Marco sia stato un po' stupidino Lo so avete ragione ragazzi Però è anche un po' quello il bello della sfida Provare a vedere poi Perché io sto notando Che questi youtuber hanno molta più vita rispetto che al solito Vediamo chi c'era qua a fianco Buddy Xiao Fere Kenoya Inigo C'erano da poter sfidare anche Allora colore giallo 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 Buongiorno signor Buddy Re oscuro Buongiorno signor No 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 Ma ragazzi con un colpo mi ha dato blindness E beh ovviamente è re oscuro Allora facciamo così Un pugno al re oscuro Ma poi c'è su una spada molto strana Non è una spada in diamante È una spada Non vieni qua Oh Calma 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 Buddy si calmi Ok venga qua Oscuro dannatore oscuro Ok Sembra sparito completamente ragazzi Meno male Meno male Ma che spettacolo che danno anche gli effetti Cioè ma con un colpo di spada Che era una spada Sembrava tipo quella degli SCP ragazzi Aveva un colore simile Mi ha dato blindness Mi ha dato cecità Bello 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 se sfida ragazzi Sono innamorato di queste sfide qua Dele ruote Spero che anche vi piaccia Allora colore arancione Colore La prima volta che esce con l'arancione Ragazzi poi non abbiamo neanche guardato Chi c'era a fianco Marci C'era Steffo C'era ancora Marci Puoi fare E poi che noia Interessante Interessante Allora colore arancione Buongiorno No Martina Ma guardate Quanto mi ha tolto Devo mangiare una mela d'oro Ragazzi sto finendo le risorse Eh Scusatemi Quanta roba manca ancora Manca Siamo dopo la metà Ma ho solamente due bistecche E una mela d'oro Martina vieni qua Vieni qua Mi togli tre cuori a colpo No 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 Mi da anche fame Mi da anche fame Che noia ragazzi No dai Anche che noia Dannazione Devo fare un regalo anche a che noia Ma è fortissima Vieni qua Dannata che noia Quanta diamine di vita è ancora Oh Uuuuh Bella sta carota Ok Interessante Interessante Il drop della carota Mi è piaciuto Dai Dovevamo fare per ora il regalo Quindi a bella faccia E a che noia Mi raccomando Siete cattivi o non troppo Qua sotto nei commenti ragazzi Che poi vi controllo E vi sbircio Che guardo ovviamente Tutto quello che voi mi dite Che devo fare Allora colore rosso A sto punto Mi mangio la carota Che dà la cosa Con più saturazione In Minecraft Certo che potevo sfidare Un'altra bella faccia Xiao e Buddy Così eh Anche se il cavaliere Il big re oscuro Ragazzi È quello che dà l'effetto Più cattivo di tutti quanti Per ora Prossimo Ma Xiao aveva dei bazooka Ragazzi Xiao aveva dei bazooka Con sé Beh Direi che questo shotgun Qui è molto forte Molto bello Ma non so se avete visto Ma Xiao aveva veramente Dei bazooka Ragazzi Era pericolosissimo Faccia saltare in a rotta la mappa Spero di rivederlo Perché voglio appunto vedere Se fossero dei bazooka O dei shotgun Però secondo me Erano dei bazooka Veri e propri ragazzi Allora Verde Colore verde Buongiorno Signor verde No Signor verde Marci No Marci Marci Io Ti faccio Boo Boo No 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 Ok Meno male Meno male ragazzi Perché Marci con quella spagna in diamante Toglie sempre un sacco Ma non mi droppa mai niente Marci Non mi fa i regalini belli Signor madamarci Eh Vabbè Va bene Va bene Va bene Non mi lamento Non mi lamento Però vado avanti Quei colori Vediamo che colore esce fuori In questo momento Prossimo colore ragazzi Vediamo quale sarà la mia prossima Spero non morte Allora Buongiorno No E vedete che Ragazzi Xeo e Come si chiama Il bazooka Ma Robby Fermi un attimo ragazzi Ma Robby ha due spade in diamante Vieni Quattro cuori Cosa faccio Mi ha tolto quattro cuori Un cuore e mezzo Allora Con Robby bisogna andare di pistola Ragazzi Così per forza Ma Ragazzi Robby ha doppia spada in diamante Era fortissimo Ma mi ha proprio spaventato Robby E poi Erano doppi Vediamo qua dietro chi c'era Quindi c'era Fere e Kenoya Xeo e Buddy Sarebbe stata una coppia devastante Perché Xeo con i bazooka E Buddy con la blindness Poi di qua c'era solo Buddy Ok interessante Di qua avevamo ancora Kenoya e Fere Di qua Kendall Era un po' misto misto Allora Ragazzi Come notate Io non ho più cibo con me Quanti ne mancano Ne mancano solo due A una mela d'oro Quindi è bello che rischiosa Allora Vediamo qua Il giro della ruota Cosa ci consiglia questa volta Allora Andiamo col prossimo Un violaceo Vieni Nico No Nico No l'effetto di Wither No Nico No ragazzi L'effetto di Wither di Nico No L'effetto di Nico di Wither No Ha un'ascia che mi dà Wither E una mela d'oro Droppamela Non me l'ha droppata Cattivo Nico Però cosa c'era dietro Un flint and steel Mi ha droppato Allora È un bel regalo Non mi lamento Un flint and steel ragazzi Però avrei preferito una mela d'oro Perché non ho più cibo con me In questo momento Non ho più niente Allora Va bene Ultimo ragazzi Ultimo youtuber Da dover sfidare assieme Andiamo con questo giro qua di colori Vediamo chi uscirà Con il colore arancione Ragazzi 3 2 1 No Roby No Roby No Roby 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 Ragazzi mi ha Iper shottato Era intoccabile Roby era letteralmente Intoccabile Quindi Devo fare Un regalo A Roby A che noia E a bella faccia Ragazzi dopo questo video Vabbè Facciamo così ragazzi Decidetevi a costruire i commenti Cosa vorrei regalare ai miei amici Della Big Vanilla Perché è stato molto divertente Comunque Spero che questo video vi sia piaciuto Se volete che lo faccio in compagnia di qualcuno Ditemelo a costruito nei commenti Mi raccomando E noi ragazzi Ci vediamo in un prossimo Da Marche è tutto Iscrivetevi e attivate la campanina Vi ricordo che tutti i giorni escono due video sul mio canale 5.30 7.30 Ciao ciao